Una nuova chiesa evangelica a Comiso. L'edificio si trova all'ingresso dell'aeroporto Pio La Torre ed era prima adibito durante la permanenza dei militari al culto cattolico romano. Inoltre il piazzale antistante l'edificio è stato intitolato Largo della Riforma Protestante. La chiesa cristiana evangelica Sola Grazia, fondazione di Comiso, è sostenuta dalla società missionaria HeartCry. A guidare la fondazione di Comiso sarà Ivan Caradonna, missionario church planter, fondatore di chiesa, con compiti di conduzione, di predicazione del Vangelo e di rappresentanza esterna. È una chiesa che è confessante e confessionale al contempo e mi voglio spiegare. È confessante perché è composta dai soli membri adulti che abbiano fatto una professione di fede e che abbiano dato una testimonianza di questa professione di fede attraverso il battesimo. È una chiesa confessionale perché è una chiesa che si rifà alle confessioni di fede della riforma protestante e in particolar modo alla confessione di fede battista del 1689. Vuole essere una presenza non soltanto spirituale all'interno del comprensorio ibleo, ma vuole anche dare un suo contributo alla comunità attraverso le opere diagonali, le opere di servizio, le opere di carità che essa rende a tutti, a prescindere dal credito religioso, dall'origine etnica, dall'orientamento politico, dalle condizioni sociali. I locali della chiesa, come spesso nelle realtà evangelicali, saranno utilizzati in maniera polivalente per finalità di culto e socioassistenziali. Queste attività saranno svolte dall'ente di diritto civile di riferimento della chiesa. L'associazione di promozione sociale è il Peace on Loose. I locali sono stati concessi incomodato d'uso dal comune di Comiso tramite un bando pubblico per il potenziamento dei servizi sociali. Il ministro di culto, colui che amministra il battesimo, agli adulti che hanno già fatto una professione di fede, accoglie il catecumero all'interno della vasca battesimale e lo invita a fare le sue promesse battesimali. Una volta che viene a fare queste promesse battesimali, viene immerso nell'acqua che simboleggia la morte di Cristo e poi viene ad essere riemerso perché in questa maniera lui è risuscitato con Cristo.